Lo sai qual è il motivo principale per cui sotto il logo di SOS Automotive c'è scritto l'auto di cortesia che si ripaga da sola? La motivazione principale è che con il recupero del fermo tecnico l'auto di cortesia di una carrozzeria potrebbe non essere un costo. Alcune volte però sento molto scetticismo da parte di alcuni carrozzieri, addirittura altri, che per fortuna sono rimasti in pochi, visto che gli hanno detto che è difficile ottenerlo, ci dicono che la compilazione dei documenti e il tempo per gestire la pratica sono una vera rottura di scatole. Ma forse non si sono mai fatti bene i conti. Per gestire una pratica di richiesta del fermo tecnico ti bastano solo 15 minuti. Facciamo un esempio pratico. Questa settimana ripari una macchina che ha subito un sinistro con un danno concordato in 32 ore di mano d'opera. Le ore concordate corrispondono ai giorni di noleggio che andiamo a richiedere in compagnia. Quindi, per questo sinistro chiederemo 4 giorni di noleggio. Solitamente SOS per una ventura sostitutiva utilitaria ottiene dai 50 ai 60 euro al giorno e restituisce fino ad un massimo del 70% al convenzionato. Nell'esempio che ti sto per fare, semplifichiamo i conti. Fatturiamo 4 giorni a 50 euro per un totale di 200 euro. Il 50% lo restituiamo alla tua carrozzeria, quindi 100 euro. Per fare ciò serviranno il modulo di noleggio, la cessione di credito e altri documenti che hai già, ad esempio l'impreddo della lettura, il CIT, il preventivo della fattura e la patente. E per fare tutto questo, cronometro alla mano, ti bastano certamente 15 minuti. Se paragono questo alla tua manodopera oraria, che si aggira intorno ai 40 euro l'ora, euro più euro meno, 15 minuti del tuo lavoro o di quello di un tuo dipendente, per te valgono 10 euro. Sei d'accordo con me che il fermo tecnico è un'opportunità strapagata? Nell'esempio che ti ho appena fatto, vale 10 volte tanto. 10 euro della manodopera contro i 100 euro del fermo tecnico. E se faccio lo stesso esempio, rapportandolo ad un'ora di lavoro, in un'ora posso guadagnare 40 euro, mentre se mi dedico alla compilazione di 4 pratiche, posso produrre tranquillamente 400 euro. 10 molti di più. Sei ancora convinto che non conviene? Se vuoi approfondire tutti questi argomenti, iscriviti al gruppo Facebook SOS Automotive, dove parleremo di fermo tecnico con i nostri legali, ma anche di strategie che potrebbero essere utili per la crescita della tua azienda. Ti aspetto, un saluto da Emanuele Zappa.